Ciao, finalmente posso darvi delle notizie, scusatemi se ci ho messo un po' di tempo ma vi avevo detto che mi sarebbe presa la pazzia che mi volevo trasferire, mi sono trasferita. Quindi, che è successo? Che verso la metà di settembre ho preso la baracca e i burattini, no vabbè, parte della baracca e dei burattini e ho deciso di venire a Parigi perché comunque avevo questa idea da tanto tempo, ne avevo parlato nel mio video precedente. Sono arrivata qui verso la metà di settembre con l'idea, vabbè, vado lì, il francese l'ho fatto un po' alle superiori, quindi insomma con il francese delle superiori basta stare lì, insomma, che ne so, dopo due o tre settimane sicuramente riesco a fare un po' più di conversazione anche perché confidavo molto nel fatto che essendo io una persona estremamente curiosa avrei cercato il più possibile di fare amicizia, addirittura avevo pensato che se non fossi riuscita a trovare un lavoro, perché comunque insomma il mio francese per il momento non era e non è eccellente, sarei comunque, avrei comunque potuto chiedere a delle associazioni di volontariato di aiutarli lavorando con loro in modo tale che non mi devono pagare, quindi fatto sta che arrivo qui, ho la fortuna di poter stare nell'appartamento di alcuni amici, quindi insomma lì si vede la finestra, la finestra parigina e comunque insomma per il momento sono a casa di questi amici. Cosa faccio? Mi rendo conto che quando provavo a parlare francese era una tragedia, nel senso che magari cominciavo la frase pensando di parlare francese, ma mi uscivano moltissimi vocaboli in inglese, cioè io non avrei mai creduto perché pensavo vabbè io ho imparato l'inglese senza averlo mai fatto prima, cioè mi sono trasferita in Inghilterra, l'inglese non l'avevo mai fatto, in un paio di mesi ho avuto il mio primo lavoro, quindi voglio dire in un paio di mesi comunque sono riuscita ad avere un colloquio di lavoro, vuol dire che l'inglese ero riuscita a parlarlo, per quanto possa essere stata pazza, avevamo dato lavoro la prima volta, e quindi insomma pensavo che col francese sarebbe successo lo stesso, evidentemente il mio cervello pensa all'inglese come lingua straniera, e non è la lingua straniera che comunque sia studiato, cioè come quando si studia a scuola, poi magari ogni tanto si parla francese, scusate, inglese, poi si utilizza per lavoro e quindi insomma io l'inglese l'ho parlato per 5 anni e mezzo ogni giorno con tutti sul luogo di lavoro, con amici, con amiche, quindi per me diciamo che è come una seconda lingua, ora non voglio dire che sono bilingue perché è una lingua che ho imparato 5 anni e mezzo fa quando ero insomma grande vaccinata, sicuramente non lo parlo come lo parlano tanti inglesi, però comunque insomma non ho difficoltà a capire, a parlare, evidentemente mi è entrata in testa come lingua straniera e quindi quando io provavo a parlare francese, cioè vedevo che iniziavo una frase in francese e poi contenava l'inglese, al che ho cominciato a pensare ma forse sarebbe meglio, cioè io ho sempre odiato i corsi perché non imparo con i corsi, perché io sono una persona che impara facendo, non studiando, e quindi insomma a me la teoria è sempre piaciuta poco, poi le regole grammaticali per l'amore di Dio, quindi ero molto contraria a fare un corso, poi però era possibile provare a fare un test gratuito a una scuola di francese che c'è qui a Parigi per provare a vedere quale fosse il mio livello. Allora io sono andata a chiedere informazioni e mentre chiedevo informazioni alla, diciamo alla reception di questa scuola, mi sono resa conto che non riuscivo a dire quello che volevo dire, che magari dicevo due parole in francese e tre in inglese, cioè non vi rendete una cosa terribile, al che ancora prima di fare il test ho pensato no, bisogna faccia un corso, anche perché la mia idea di venire qui e parlare con la gente, cioè io ancora non conosco persone francesi, cioè con chi parlo, nel senso, poi ovviamente non voglio fare tutto all'erba un fascio, però non è che i francesi sono come gli italiani che ti metti in fila alla posta e ci chiaccheri, cioè insomma no. E quindi mi sono resa conto che se avessi voluto arrivare a parlare un po' più di francese da sola avrei necessitato probabilmente di, non lo so, 6-7 mesi, mentre con una scuola sarei stata costretta a parlare francese, perché lì parlano soltanto francese, abituarmi a sentir parlare francese. Insomma sono andata a fare questo test dove il risultato non è stato neanche così pessimo, cioè l'ho scritto sicuramente migliore rispetto al mio parlato, perché comunque mi hanno detto che ho un livello intermedio e potevo iniziare il livello intermedio dopo una settimana, io però ho deciso, siccome non potevo resistere, bisognava iniziarsi veramente a parlare, ho iniziato l'ultima settimana di settembre partendo diciamo dall'ultimo step del livello precedente e ora sto, insomma, sto continuando, diciamo, vado a scuola 4 ore al giorno tutti i giorni la mattina, ma è sicuramente positivo perché ho conosciuto delle persone nuove, sento parlare francese, devo parlare francese, continuo effettivamente a infilarci tante parole di inglese, cioè io spero, insomma, che in poco tempo la situazione migliorerà perché la prima settimana sono riuscita a dire cose tipo j'understand, quindi io in francese capisco in inglese, quindi j'understand, ho detto samfois invece che parfois, che vuol dire qualche volta, quindi ho detto un misto fra sometime sometime e parfois, quindi samfois, ma anche ora, cioè anche ora quando parlo magari invece per dire, che ne so, è una cosa molto brutta, fa molto, invece che, insomma come si dice, io dico, tre bad, e non è tre bad, quindi, cioè, è veramente un casino, non pensavo, vedo il miglioramento sicuramente rispetto a due settimane fa, ma insomma il percorso è più difficile di quanto avrei pensato, nonostante questo sono veramente contenta perché, cioè, a me Parice è sempre piaciuta, per me il fatto di, sì, vabbè, vado a scuola la mattina poi mi danno la lezione a casa, che è ancora più terribile, però insomma a parte questo tutti i giorni esco, faccio una passeggiata, ho fatto una specie di, come si può dire, di abbonamento, che si chiama Navigo, che è tipo la oyster inglese, però devo dire che la utilizzo veramente poco, giusto una mattina quando vado a scuola e quando torno, perché insomma è molto lontano da qui dall'altra parte di Parigi, però poi quando posso esco a piedi, perché è una città che proprio ti invoglia a passeggiare, a guardare, qualsiasi cosa si veda, è bella, ci sono momenti che meteorologicamente sono tremendi, nel senso che all'improvviso vengono delle acquate incredibili, tipo prima quando entrava a casa è venuta un'acquata eccezionale, che poi è improvvisamente smessa e ora vedo sta venendo il sole, infatti vedete, poi vabbè, certi luoghi comuni o comunque cose che mi erano state raccontate da persone che hanno vissuto a Parigi, vedo, provo sulle mie pelle che sono vere, del tipo che per esempio la mattina nella metropolitana, io finora, io prendo la metropolitana da quasi un mese, non ho mai mai visto nessuno ridere, mai, ora capisco che magari sono arrabbiata perché vanno a lavoro, però dio mio, cioè ridono, niente, e insomma anche altre cose che avevo sentito dire francesi, però sinceramente per ora me ne frego abbastanza, anche perché poi tutto il resto è molto bello e quindi mi sto sobbarcando alla ricerca del lavoro, però sinceramente volevo aspettare di riuscire perlomeno a mettere in fila due parole in francese, perché altrimenti insomma se mi telefonano per dirmi qualcosa e non capisco cosa mi dicono, non è una buona presentazione, magari avrei dovuto, cioè, allora, penso, se avessi studiato di più il francese me lo fossi ripassato prima di venire, però conoscendomi per me il modo migliore per imparare è quello di trovarmi nelle situazioni, è la verità, ho dovuto fare delle chiamate per esempio per attivare il numero telefonico francese, ero un po' disperata all'inizio, ma insomma sono riuscita poi a capire cosa mi dicevano e sono riuscita a farmi capire, oppure queste cose qui, ho dovuto aprire un conto in banca, cosa abbastanza problematica qui, nel senso che se non è un lavoro è difficile avere il conto in banca, oppure te lo danno ma senza una carta di debito e allora però non puoi prelevare i soldi, se non c'hai un contatto d'affitto può essere un problema, insomma adesso sono stata molto fortunata e da questo punto di vista ho cercato di organizzarmi, diciamo prima di partire potendo dare l'indirizzo di questi amici che vivono qui, loro hanno il conto in quella banca e quindi insomma mi hanno accompagnato per presentarmi e in quel modo ho avuto la possibilità di aprire un conto perché altrimenti sarebbe stato un problema, però anche lì per esempio ho dovuto parlare con la signora che mi ha aperto il conto per un'ora e poveraccia, cioè penso che quando è andata a casa o quando sono uscita alla porta hanno usato i sali per riprendersi perché c'è proprio un discorso, mi sono venuti cent'anni però anche perché sinceramente so che se parlassi inglese, ora non tutti perché in effetti credevo che lo parlassero molto di più quell'inglese, forse perché non vogliono e da una parte lo capisco, insomma in fondo siamo in Francia, ho gestito parlare francese e adattarsi, però credo che molte persone abbiano proprio anche problemi a capirlo o a parlarlo, cioè non lo parlino e di conseguenza ecco so che se fossi proprio in difficoltà magari potrei provare a parlare in inglese, ma sinceramente non è una cosa che voglio fare perché credo che sia giusto innanzitutto per rispetto delle persone che abitano qui e di cui la Francia è la nazione, cioè voglio dire vengo in Francia, se voglio stare qui è giusto che mi adatti, che parli il francese e poi anche per una sorta di rispetto per me stessa perché non so se poi mi piacerà vivere qui, non so come ci starò, non so se troverò lavoro, non lo so, però se per qualche motivo dovessi poi tornare via, perlomeno posso dire che il francese un po' l'ho imparato o comunque posso dire di essermi davvero immersa per quanto possibile nella cultura di questo paese, nel modo di vivere di questo paese e anche della lingua di questo paese che fa parte poi della loro cultura perché altrimenti secondo me non ha senso. Ci sono delle persone che stanno facendo un corso con me, per esempio c'è una ragazza che parla spagnolo come prima lingua che ha fatto che quando io ho visto che era lo stesso mio livello ma lei mi ha detto di essere qui a Parigi da un anno, io sono rimasta un po' sconvolta perché, io non voglio dire che dopo un anno che stavo in Inghilterra parlavo perfettamente l'inglese, però insomma lo parlavo molto più di lei, non avevo bisogno di fare il corso per capire o per parlare o per rifinire certe regole, cioè neanche regole grammaticali perché poi la grammatica inglese c'è ma la conoscono poco anche gli inglesi, però insomma per dire dopo un anno non era sicuramente al suo livello e lei mi ha detto che addirittura lei qui ha studiato, quindi cioè non è che era qui però non lavorava, non studiava, non faceva niente, quindi no, studiava però i corsi che seguivano in inglese e di conseguenza lei mi ha detto non mi serviva imparare il francese, però boh, cioè sinceramente non l'ha detto, sono rimasta un po', ho capito? Non ti serve, non ti serve per studiare, però magari ti serve per fare la spesa, ti serve per conoscere persone che non siano necessariamente di lingua spagnola o comunque che non siano di tutte le nazioni perché della Francia, perché comunque difficilmente poi con il francese ci parla inglese, insomma ci parla inglese, comunque non è che voglio staggiudicare, però è un po' il mio punto di vista riguardo a questa cosa e a parte questo, ma cioè non saprei in realtà che dire, so che voglio stare qui sicuramente fino verso la fine di gennaio, però ovviamente insomma se trovassi lavoro e ci stessi bene ci vorrei restare anche di più. La città mi piace, mi sono regalata una piccolissima torre Eiffel che ho attaccato, oddio, guardate qui tutti i segni, ho dei problemi. Allora qui, questa è una torrina Eiffel che io ho attaccato un mio bracciolettino perché Parigi mi piace. Non so sinceramente che più raccontarvi nel senso che sto studiando, bello, ritrovarsi a questa età a studiare un po' triste e ho ho trovato dei lavori, dell'offerto di lavoro in cui si ricerca personale che parli l'inglese e l'italiano, quindi forse manderò il curriculum anche perché insomma qui la situazione lavorativa non è sicuramente quella dell'Inghilterra, quindi tenta non nuoce, però come dicevo volevo se non altro aspettare di avere un, non ad avere un livello migliore perché il livello sempre quello è, però insomma di poter fare un discorso, capire cosa mi dicono al telefono più o meno, cioè non tutto assolutamente, più o meno, in modo da non fare proprio una figuretta ecco perché quello sarebbe un po' aiutatore di lavoro, una persona che vive qui e non sa di niente. Sa che ci sono persone che lavorano in inglese e il francese lo usano pochissimo, quindi teoricamente potrei anche farlo, però insomma preferirei non farlo, preferirei fare altri tipi di scelte. Detto questo ora non dico altro, mi scuso insomma se ci ho messo del tempo a fare il video, però sono stati giorni un po' incasinati. Vabbè, vi mando un bacio, ci vediamo presto e ci sentiamo presto. Ciao!